Ciao a tutti! Parlamo un po' da mullic! Eh? Ciao e benvenuti a qua se parlano il dialetto! Per scoprire tutti i video di dialetto iscrivetevi a questo canale! Quando vi vive a Roma, siccome tutti ridevano perché vi parlavo di dialetto, vi provavo a parlare un po' da me. Allora, ho capito che invece di dire U, un maschio, era meglio di dire IL, il maschio. E invece di dire A, la femmina, era meglio di dire LA, la femmina. Allora una volta si è andato a un supermercato vicino a stazione Termini. Mi scusi, vicino alla stazione Termini. E stavo cercando una cosa. Cercava, 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 ma non trovavo sta cosa. Io non volevo domandare nessuno perché mi sbagliava e tutti si mettevano a rita. O mi guardavano strano. Allora cercava, cercava, cercava. E finalmente quelli che lavoravano là, è venuto da me. E mi ha domandato. Ciao signorina, posso aiutarla? Prima che ho risposto ho pensato bene, perché voleva veramente rispondere bene. Sto cercando la mullica. Escusi ma, cosa stai cercando? La mullica. Non l'ha capito. Ma cos'è la mullica? La mullica? Una panna che fa così? Ah, il pane grattugiato. Vieni con me. Ti faccio vedere dove. Mannaggia. Mengo questo sapevo. E ora, vi presento Maria Giannini, che vi dice la parola del giorno. Ma togliamo questa cosa in faccia. Sto preparando la cotoletta. Allora con che si fa la cotoletta? Ma come? Con che si fa la cotoletta? Tu lo sai. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. C'è un'altra cosa. E' un'altra cosa. Eh signorina, signorina, ora tu dici, se no tu non mi lascia in faccia, ho già capito. C'è un mullica. La parola del giorno è Ammullica. Ammullica. O fan. Che fa così. Do you say ammullica too? Voi, dici da un mullica. Scrivete le sotto. Taracomane. Taracomane. N'endemannia, mullica son. Solota foca. Musica